Di cosa parleremo Luca? Ezio, questa volta parliamo di viaggi, lo facciamo con Alessandro Agostinelli che è il direttore del festival del viaggio, gli chiederemo di che cosa si tratta naturalmente e cercheremo di andare un po' più a fondo nel concetto stesso di viaggio, cercheremo di capire che cosa si può offrire ai viaggiatori attraverso un festival, attraverso gli esperti, attraverso chi ha pensato il viaggio come un'attività non banale, attività di scoperta, di comunicazione e di crescita. Lo facciamo subito dopo la sigla. E allora parliamo di viaggio, lo facciamo con Alessandro Agostinelli, che è scrittore, saggista, poeta, una persona abituata a usare e a giocare con la parola, con la comunicazione, beh in questa occasione sarà maestro del viaggio invece, meglio ancora, maestro del viaggiare, un'attività che mette in relazione noi stessi e ognuno di noi con il nostro bagaglio di esperienze, di giudizi e anche di pregiudizi con l'altro e con l'altrove. Beh, per scavare nel fenomeno del viaggio, nell'esperienza del viaggio, offrire qualche strumento critico in più a chi lo voglia naturalmente, Alessandro Agostinelli da qualche anno si è inventato un festival del viaggio che si chiama Il Milione, non si riferisce naturalmente al costo di un pacchetto all inclusive ma al reportage, possiamo chiamarlo così con termini moderni, di Marco Polo. Allora Alessandro, ci racconti perché un festival del viaggio innanzitutto? Il festival del viaggio è nato nellì, avevamo sentito la necessità di affrontare i temi del viaggiare in maniera approfondita e multidisciplinare. Questo perché in Italia da un po' di anni c'è un interesse da parte degli spettatori, del pubblico, per tutti i festival di parola. Vengono un po' meno gli interessi nei confronti dei festival musicali, di teatro e c'è un'attenzione particolare da parte delle persone per eventi, conferenze, dove si va a parlare di argomenti specifici. Sto pensando al festival della filosofia di Modena, al festival della letteratura di Mantua, eccetera. E noi abbiamo tentato, forse in anticipo anche sui tempi di altri festival che sono nati dopo, di mettere insieme i temi del viaggiare da un punto di vista del reportage, del servizio giornalistico, a tutta una serie di informazioni che possono servire anche come utilità, a chi davvero poi affronta il tema del viaggio. E quindi che cosa è meglio fare per volare in maniera serena e tranquilla? Come si può fare un bagaglio per essere più leggeri facendo un viaggio abbastanza lungo? Tutta una serie di informazioni che all'interno del festival del viaggio, tra il 2006 e quest'anno, sono stati affrontati in maniera abbastanza dettagliata. Allora, Ressandro, intanto dici dove si tiene, quanto dura e poi appunto nello specifico quali saranno i contenuti, i partecipanti, gli ospiti di questa edizione. Allora, questa edizione del festival è un'edizione abbastanza lunga, nel senso che nel 2009 abbiamo cercato di ampliare i nostri interessi e il tentativo che facciamo oggi è quello di fare formazione, cioè di costruire un workshop del viaggio, un laboratorio vero e proprio che riesca a dare sia a coloro che fanno un viaggio, vanno in giro facendo fotografie, scrivendo diari di viaggio, un modo, una struttura, una forma, una specie di metodo per poter raccontare in maniera adeguata quelle che sono le loro esperienze all'estero. L'altra, anche un'occasione di formazione per tutti quei giovani che cercano nuovi sbocchi professionali e che in qualche misura, affascinati dal viaggiare, sono tentati, diciamo, di provare, di mettersi alla prova con le loro macchine fotografiche digitali, i loro iPhone oppure i taccuini e in qualche modo vorrebbero che questo tipo di esperienze che riescono a fare diventassero magari un'occasione professionale di lavoro. Ecco, questo è interessante, cioè abbiamo sempre parlato del viaggio come di una esperienza individuale o al più collettiva, ma insomma ristretta ai protagonisti del viaggio. C'è davvero mercato, come sbocchi professionali, dicevi, per chi voglia viaggiare e farne addirittura un mestiere, riuscire a raccontare il viaggio professionalmente? Beh, devo dire che in questi ultimi anni c'è un'attenzione molto particolare, per il viaggio. Se guardiamo soltanto anche alle piccole case editrici che sono nate e che si occupano di titoli che hanno a che vedere con i diari di viaggio, con le memorie, testi di letteratura di viaggio, ma anche testi fotografici, beh, vediamo che il panorama in Italia si è allargato molto. Ci sono editori che si occupano, ad esempio, e pubblicano soltanto titoli che riguardano viaggi fatti in bicicletta, ad esempio. Sto pensando ai di ciclo di Marghera, oppure altri editori, anche a Roma ce ne sono, che si occupano appunto di raccontare reportage lunghi su paesi che abbiamo visto sempre affrontati in maniera forse più, tra virgolette, turistica sulle riviste patinate e che però adesso, come dire, vengono approfonditi in maniera un po' diversa. Penso, per esempio, a un bellissimo libro di Francesca Bellino su Buenos Aires e l'Argentina. Insomma, credo che anche in settori che riguardano il lavoro culturale, diciamo che il viaggio è uno dei temi all'ordine del giorno e l'esempio delle piccole case editrici che sono nate è un esempio calzante, credo. E Alessandro, incidentalmente, le immagini che stiamo vedendo a che cosa si riferiscono? Sì, abbiamo visto alcune immagini della California, queste, ad esempio, sono Sacramento, che è la capitale della California. e prima mi sembra di aver visto qualcosa che aveva a che fare con un'esperienza di viaggio incredibile fatta da un gesuita che era Jacopo Desideri e che ha scritto un diario eccezionale nel Settecento. Sono immagini che si riferiscono a dei documentari che sono stati presentati nella ultima edizione del Milione Festival del Viaggio che si è tenuta lo scorso anno, a dicembre, a Pisa e sono documentari, questo è sempre quello su Jacopo Desideri e sono documentari appunto che erano inediti e sono stati presentati per la prima volta al nostro festival. Questo, per esempio, è un viaggio sul Mekong fatto da Lorenzo Marotta. Sono immagini che non riusciamo spesso a vedere nelle televisioni, nei vari programmi che sono dedicati al turismo più che al viaggio. I festival, in questo caso, credo che non solo il nostro, ce ne sono altri tre in Italia abbastanza interessanti, credo che servano ad aprire un nuovo orizzonte rispetto a quello che ci viene restituito, e cioè le immagini del viaggiare. Alessandro, siamo in conclusione e ti chiedo di essere molto sintetico. Parlavi della distinzione fra viaggio e turismo. Pensavo c'è un apparente paradosso, cioè in questa parte del mondo almeno tutti viaggiano, quasi tutti. Un fenomeno più diffuso almeno che nelle epoche passate, quando era solo una elitta a viaggiare. Allo stesso tempo forse si è perso un po' il senso di questo viaggiare, oppure no? Ma diciamo che c'è un amico che è Luciano Del Sette, un grande viaggiatore, ha scritto una guida sul Brasile importantissima, dice sempre ormai siamo solo tutti turisti, anche lui si mette in questa schiera. Boh, forse sì. Credo che ci siano altri tipi di viaggio, il viaggio che viene fatto in solitario, a piedi, oppure viaggi che vengono fatti attraverso home exchange, scambi casa, eccetera, e che vengono organizzati come se fosse una mappatura non dei luoghi, ma della vita sociale delle persone. Penso che il viaggiare sia uno dei temi cardine della vita. Noi appunto con il workshop di Pisa, che ci sarà a metà ottobre, cerchiamo in qualche misura, con docenti di esperienza, di dare a chi si iscrive, ai partecipanti, gli strumenti per poter affrontare in maniera adeguata quello che è questo nuovo orizzonte del viaggiare, non solo nei grandi capitali, non solo nei villaggi turistici, ma nel cercarsi un proprio percorso attraverso anche delle mappe interiori a volte. E nello scambio di esperienze, nella crescita personale, culturale, un'altra volta parleremo dei network di ospitalità online, ad esempio come Couchsurfing o Hospitality Club. Chiudiamo qui, chiudiamo con una citazione di Marcel Ploust che diceva Il vero viaggio non consiste nel cercare nuove terre, ma nell'avere nuovi occhi, perché è il viaggio che cambia noi. Non sono le persone che fanno i viaggi, sono i viaggi che fanno le persone, lo diceva lo scrittore americano John Steinbeck. Allora, grazie ancora ad Alessandro Agostinelli per essere stato con noi, per averci presentato il festival del viaggio Il Milione.